Benvenuti, ben ritrovati, una nuova puntata di Respubblica Sicilia chiama Europa. In studio un deputato, una deputata regionale, una parlamentare, è sempre un piacere averla in studio perché è una che almeno finora dimostra di parlare solo quando ha cose concrete da dire, da dimostrare, per cui mi fa piacere sempre scambiare riflessioni con lei. Sto parlando dell'onorevole Cristina Ciminnesi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, ben ritrovata. Buonasera a tutti voi. Ben ritrovata. Grazie. In questi giorni stiamo notando una malacre comunicazione basata su fatti concreti. Partiamo dai ristori per i danni derivanti dalle alluvioni che hanno colpito tre province, in particolare quella di Trapani e le altre due. 5 milioni, ne abbiamo già parlato nel tre giornale, adesso c'è il decreto autotativo, quindi si possono erogare, c'è tutta un'altra fila da compiere, certamente, però appunto partiamo da questa concretezza onorevole. Lì c'è lo zampino di Cristina Ciminnesi. Sì, naturalmente è bello che la politica... Allungo la domanda. Lì c'è lo zampino di Cristina Ciminnesi, ma solo di Ciminnesi? La politica, sia di opposizione che di maggioranza, ha il dovere di dare delle risposte anche su questioni emergenziali imminenti, insomma, che si vengono a creare nelle contingenze magari di un determinato momento. È chiaro che il Presidente Schifani, nel momento in cui, subito dopo i fatti, si è recato sui luoghi dell'alluvione, è venuto a prendere degli impegni. E noi, su quegli impegni, abbiamo fatto leva per cercare di ottenere il risultato che oggi, per quanto non del tutto soddisfacente, comunque possiamo dire di aver portato a casa. Comunque è un momento importante perché avviamo concretamente le procedure e questo ci consentirà, anche in un momento successivo, quando e se riusciremo ad aumentare questo importo che attualmente è di 5 milioni, di avere però già avviato il lavoro, di avere già delle direttive che disciplinano le modalità per accedere ai ristori, disciplinano i requisiti per accedervi e tutto questo già comunque ci fa portare abbastanza avanti con il lavoro. Adesso la battaglia sarà quella di aumentare le somme inizialmente stanziate e che siamo, io lo dico con un pizzico di orgoglio, ma perché, senza vana gloria, ma con quell'orgoglio che serve per dire ai cittadini, c'è chi in assemblea regionale siciliana ha difeso i trapanesi. Beh, l'aumento, se sarà di un altro milione di euro, fondamentalmente, insomma, sì, ok, è qualcosa in più, ma cambia poco, non bastano questi soldi, obiettivamente per tutte e tre le province, non basta per la sola provincia di Trapani. Però lì dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco e questa è la somma che riusciremo al massimo ad ottenere o si può fare di più? Naturalmente il governo si è impegnato quando ha sottratto quel milione, perché lo ricordiamo, magari facciamo un piccolo riassunto, la somma inizialmente prevista era di 6 milioni, poi nel momento dell'approvazione in bilancio ci fu un emendamento del governo che andò a sottrarre un milione per destinarlo, 670 mila, a eventi finanziati direttamente dall'assessorato enti locali, quindi eventi anche tradizionali, sociali, io le ho chiamate sagre e feste di paese per essere più sintetiche, però oggettivamente di questo si tratta, dico per carità legittimo, però con una manovra di 300 milioni lì veramente quel milione si poteva recuperare da qualcos'altro e non dai ristori sulle alluvioni, però fu in quella sede che comunque l'assessore si impegnò in qualche modo dicendo non ti preoccupare, questo milione in qualche modo lo recupereremo successivamente, quindi sul fatto che questo milione si possa recuperare io mi sento cautamente ottimista, però cautamente. Naturalmente, ripeto, sarò contenta se riusciremo ad aumentare questo importo, anche vedendo man mano le domande che si andranno ad accumulare, effettivamente riuscendo a quantificare concretamente quanto ci serve, di quanto dobbiamo aumentare questo stanziamento. Beh, pare che 5 milioni riguardino solo trapani e mesi di semi all'incirca. Sì, anche di più probabilmente, però siamo in questa fase iniziale, in questo momento partiamo, avviamo le procedure e poi strada facendo quantifichiamo con maggiore esattezza quelli che sono gli importi che ci servono e cerchiamo di spingere il governo a prevedere gli stanziamenti necessari. Questi soldi serviranno per risarcire anche, che ne so, l'auto di Baldarotta, faccio un esempio, io non c'entro nulla, che è rimasta danneggiata nell'alluvione o no? Perché ci sono per ora, c'è un po' di confusione. Ma in realtà una delle due direttive, è stata una questione che mi è stata sottoposta, che ovviamente farò presente al Dipartimento regionale di protezione civile, ma in realtà la direttiva, il decreto attuativo, chiamiamolo così, che riguarda le civili abitazioni e i beni mobili parla anche di beni mobili registrati. Quali sono le automobili, per esempio, no? Sono natanti automobili, sono beni mobili registrati tecnicamente, quindi ritengo che non dovrebbe esserci alcun problema nel farvi rientrare anche i beni mobili registrati, quindi le automobili. Beh, per quello che ne possiamo capire, che tempi si possono prevedere per il cittadino Baldarotta che ha fatto istanza, ha decertificato, ha avuto questi danni per avere soldi? Nei prossimi giorni il Dipartimento regionale di protezione civile dovrebbe risolvere quel problema tecnico che ha impedito ancora la pubblicazione dei moduli materialmente sul sito, quindi poi da lì, dal giorno della pubblicazione in gazzetta, decorreranno 30 giorni per la presentazione delle stanze, l'istruttoria verrà effettuata dai comuni, quindi immagino che i tempi non dovrebbero essere lunghissimi, potrebbe essere anche ragionevole immaginare che entro la fine dell'anno o all'inizio del nuovo anno si possa iniziare con le erogazioni. Beh, lì c'è un problema riguardo ai mesi di scemi che senza personale fondamentalmente speriamo che non abbiano necessità di più tempo, da questo punto di vista come li possiamo aiutare eventualmente? Ho avuto delle interlocuzioni fino a stamattina informali con il Sindaco e mi ha rassicurato sul fatto che loro sono abbastanza tranquilli da questo punto di vista come comune, è chiaro che se dovesse esserci necessità di un ulteriore supporto ci mobiliteremo tutti quanti per rendere quello che è necessario. Da cittadina misilese, fra cambio subito rimango lì sull'argomento misi di scemi, come sta andando questo comune? Beh, naturalmente il comune è in una fase di avvio con tutte le difficoltà che ci sono, con tutto quello che attiene ai rapporti ancora in essere con il comune di Trapani, quindi diciamo che è una strada ancora tutta in salita. Da cittadini cerchiamo di essere comunque collaborativi e pazienti, però c'è tanta attesa naturalmente perché il comune di misiliscemi ha ingenerato, diciamo la nascita del nuovo comune ha ingenerato nei cittadini il desiderio di un'attività amministrativa effettivamente efficiente, che in tutti questi anni precedenti è mancata. Quindi questo desiderio un po' si scontra con le difficoltà che ovviamente in questa fase di avvio il comune sta vivendo. Beh, a breve dovrebbe essersi insomma la possibilità di trasferirsi nella sede del centro, dell'ex centro cara, quindi il municipio in un certo senso può avere nascita ufficialmente. una sua sede. Almeno fisicamente potrà avere una propria sede. Non sarà solo la sede del municipio, insomma. Sì, ma attualmente anche il consiglio comunale si munisce in quella sede. Infatti ci saranno poi diversi altri servizi allocati lì per i cittadini. Va bene, misiliscemi per ora lo accantoniamo. Ok, hanno approvato il bilancio, era facile, primo anno insomma, poca roba, poca roba. Trapani no. Su questo diciamo che le due storie sono connesse in realtà. È chiaro che è sempre un successo per un'amministrazione che riesce ad approvare documenti contabili perché questo consente di non solo di programmare le attività ma anche di garantire quei servizi essenziali che devono essere garantiti in un comune. Il fatto che per tanti anni a Trapani sia mancato il bilancio in qualche modo ha provocato anche un arretramento nell'erogazione di questi servizi che andrebbe sempre scongiurato. Però onorevole non ti abbiamo sentito a battagliare su questa questione del bilancio a Trapani. Tantissimo, un po' sì ma sei stata a guardare quasi. Perché? Ma in realtà io penso che la politica regionale in qualche modo debba sempre a meno che non sia direttamente chiamata in causa. Quando si tratta di vicende comunali forse provare a stare un po' un passo indietro. Ma questo perché non avete ancora un coordinamento comunale? No, no 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 perché in realtà questo significherebbe stare un passo indietro e non ingerirsi nell'attività amministrativa del comune non significa disinteressarsi di quello che fa un comune o di quello che succede in un comune. In realtà in questo momento c'è abbastanza carne al fuoco nel consiglio comunale di Trapani sulla questione del bilancio più che legittima. C'è un'opposizione che è stata scelta dai cittadini che ha il ruolo anche di compulsare l'attività amministrativa e naturalmente per quello che ci riguarda aspettiamo che l'amministrazione Tranchida almeno in questo suo secondo mandato sia più efficiente in termini di approvazione dei documenti contabili. Perché questo significa garantire i servizi ai cittadini trapanesi e non solo perché essendo il bilancio di un comune capoluogo andiamo anche a volte a condizionare l'erogazione di altri comuni che magari rientrano per esempio nel distretto sanitario. Il distretto di 50 così chiamato. E io allora li approfitto per parlare di sanità. Mi pare l'altro ieri martedì o mercoledì adesso non ricordo è arrivata questa nota stampa della deputata Ciminnesi ancora una volta per fare il punto e sollecitare soprattutto l'avvio della pratica per la nascita del centro di radioterapia a Trapani. Lì sembra quasi insomma una presa in giro non la nota della Ciminnesi ma un po' 14 anni mi pare. Sì è da tantissimi anni che i trapanesi attendono questo servizio e tra l'altro io stessa attendo semplicemente una risposta ad un'interrogazione che ho presentato all'assessorato sanità su questo tema a dicembre. L'assessorato alla sanità non mi ha mai risposto e quindi sono costretta in qualche modo ad avviare per le vie brevi diciamo un confronto con i dirigenti della sanità regionale a livello provinciale naturalmente per cercare di capire in assenza di risposte da parte dell'assessore come stiano effettivamente le cose a che punto sia l'iter. Quindi naturalmente per le vie informali lo stato dell'arte in questo momento sembra quello che vede il Ministero della Salute in realtà attendere da parte dell'ASP di Trapani, desidero eventualmente essere smentita su questo perché questo mi è stato riferito, di una documentazione che attesti la volontà da parte dell'ASP di Trapani di impegnare le somme necessarie per consentire l'erogazione del finanziamento complessivo. Ero presente in un incontro che c'è stato proprio con l'attuale commissario sordinario, spero, c'era pure l'onorevole Ciminisi, ero lì, ho fatto l'intervista, qualche mese addietro mi pare, c'è stato, no? Quando c'era stato l'incontro con il centro di radioterapia, no? Ricordo male, ricordo male. Io non c'ero. Ricordo male allora. Io non c'ero però è chiaro che anche la vecchia è la vecchia. Ci siamo sentiti, insomma, c'è un po' in questo momento un rimpallo di competenze anche a livello, cioè probabilmente tra il Dipartimento regionale e l'ASP di Trapani, in cui non è chiaro c'è chi dice che manca per l'uno, l'altro risponde che in realtà manca per l'altro. Quindi non vorremmo che in questo pantano si allungassero ulteriormente i tempi burocratici. È un pantano che riguarda un po' la politica che davvero lì, possiamo parlare di ingerenza, si ingerisce nel campo della sanità. Per ora è tutto fermo in regione per la questione delle nomine, no? Assolutamente. Questo tocca a me, quell'altro tocca a te. Esatto. C'è in atto in questo momento da parte della maggioranza che sostiene il governo Schifani la spartizione delle poltrone della sanità che sta paralizzando anche l'attività parlamentare, cioè siamo tutti fermi perché loro non hanno ancora trovato la quadra. È giusto davvero proprio utilizzare questo termine spartizione delle poltrone? O state esagerando? No, è quello che sta facendo questo governo. In realtà il problema della sanità, della gestione della sanità siciliana probabilmente è proprio l'eccessiva politicizzazione della sanità. Abbiamo noi sempre detto in maniera a volte magari un po' semplicistica però per arrivare chiaramente fuori la politica dalla sanità, proprio perché è impensabile innanzitutto che i criteri con cui si individuano i direttori generali corrispondano a una spartizione tra i partiti di maggioranza per cui a questo partito ne nomina 10, quest'altro partito ne nomina 4, in base alle forze parlamentari che in qualche modo sostengono il governo. Non penso che sia questo il modo di gestire una sanità che voglia mettere veramente al centro le esigenze dei pazienti. Questo lo dice però un deputato dell'opposizione, appunto magari poi in maggioranza anche voi fareste la stessa maniera perché poi bisogna avere i voti, consenso. Ma che in realtà, sì, la provocazione la colgo, però in realtà il Movimento 5 Stelle a queste spartizioni, è bene chiarirlo, non partecipa. Il Movimento non sta nominando nessun dirigente perché siamo forse ad opposizione, ma è chiaro che ci sono delle nomine politiche, ok, ma è il sistema complessivo che va riorganizzato. Vogliamo provare a individuare un sistema sanitario in cui si ragiona per strutture ospedaliere o comunque si ragiona in base a dei presidi di sanità che non rispondono ai collegi elettorali? Probabilmente questo cambierebbe molto gli scenari perché nella misura in cui l'asco di riferimento è quella del collegio... È un po' quello che ha provato a fare il governo nazionale con le comunità... Con le case di comunità. Con le case di comunità. Le abbiamo viste? Che però non sono funzionando. Le abbiamo viste? No. Non le abbiamo ancora viste. Ci sono una serie di investimenti che dovevano essere fatti sulla medicina territoriale con i fondi del PNRR che però ancora mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che non vedono la luce. Quindi? Quindi in questo momento il governo si dovrebbe preoccupare, a mio avviso, più di come garantire servizi sanitari che di chi nominare e dove nominare. Si parla di tavoli ristretti addirittura all'interno della maggioranza come se ci fossero 3-4 persone che di fatto poi decidono e in questo momento stanno tenendo in stallo un'intera regione perché non riescono a mettersi d'accordo su chi devono nominare e dove li devono mettere con quali criteri. Infatti qualcuno tira fuori il sorteggio e dico ma se questo è il modo di scegliere chi amministra la nostra sanità... Veramente abbiamo tantissima strada da fare da questo punto di vista. E cosa si può fare per un poco, forse nulla, insomma, per controbattere a questo status quo? Probabilmente, lo accennavo prima, è necessaria una riforma dell'organizzazione sanitaria che attiene all'erogazione dei servizi sanitari ma anche all'organizzazione amministrativa perché in questo momento quello che sta tenendo tutto fermo è l'organizzazione amministrativa dalla quale ovviamente discende anche l'organizzazione sanitaria vera e propria. Per non parlare del fatto che bisognerebbe comprendere effettivamente che intenzioni ha questo governo per quanto riguarda, per esempio, faccio un esempio tra tutti, il problema della carenza dei medici. Qual è la posizione? Si parla del numero chiuso in medicina, ok, vogliamo abolire il numero chiuso in medicina ma è chiaro che questo ci consentirà sul lungo periodo di risolvere il problema ma nell'immediato quali sono le prospettive che offre ovviamente i medici stranieri che arrivano e che poi finiscono per abbandonare la sanità, dato diciamo di queste ore, che finiscono, cioè che arrivano magari nella sanità pubblica per dare sostegno alla sanità pubblica ma poi alla fine abbandonano la sanità pubblica e transitano nel privato. Ora il problema è capire se invece non sia intendimento di questo governo effettivamente potenziare una sanità privata secondo un modello che non è quello che comunque garantisce la nostra Costituzione della sanità accessibile a tutti e che invece ci sia un tentativo voluto e scientifico di dirottare tutte le energie politiche verso la sanità privata. Beh, è certo, lo scopriremo diciamo strada facendo purtroppo. Ci soffermiamo ancora su questo argomento o andiamo a parlare di un altro grave problema che è quello degli incendi? Sono entrambi gravi. Eh, infatti, che facciamo? Purtroppo sono entrambi gravi. Il 18 di ottobre scorso, dopo tanti mesi di richieste da parte del Parlamento, il Presidente Schifani è venuto a riferire in aula su quella che è stata una vera e propria emergenza di quest'estate con dati drammatici perché gli ettari andati in fiamme nella scorsa estate ma fino a qualche giorno fa, diciamo, sono stati veramente tantissimi rispetto anche agli anni precedenti ma dal Governatore Schifani non abbiamo sentito neanche, come si dice, un piccolo esame di coscienza, no? Abbiamo sentito tanti buoni propositi per l'avvenire, abbiamo sentito quello che il Governo intende fare ma non c'è stato un minimo di assunzione di responsabilità su tutto quello che è accaduto e che non ha funzionato. Io stessa qualche giorno fa in aula ho ricevuto risposta ad una antica interrogazione che avevo presentato all'assessorato competente sul tema del piano antincendio boschivo che è oggettivamente sicuramente migliorabile ma non è un piano antincendio che se fosse in essere non può funzionare, può essere efficace, ma è evidente che quello che c'è stato scritto in quel piano antincendio, quello che è previsto nella carta del rischio evidentemente tutto quello che è lì non si è fatto e nessuno in questo Governo si è preso la responsabilità di dire questo è stato fatto, questo non è stato fatto, quindi su questo intendiamo migliorare. Si è parlato tantissimo, per esempio, dell'innovazione tecnologica, dell'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici che non siano i droni giocattolo che la Regione ha acquistato la scorsa legislatura ma di strumenti tecnologici che effettivamente possano essere da ausilio al contrasto e alla prevenzione degli incendi ma per esempio si è parlato poco del personale. Ci si è limitati a ringraziare, e in questo non posso che associarmi, a ringraziare gli operai forestali, il corpo forestale, i volontari di protezione civile, i vigili del fuoco che naturalmente con le risorse a disposizione a volte anche con mezzi veramente vetusti, soprattutto parlo dei forestali, si sono anche sacrificati a volte in maniera eroica per spegnere gli incendi ma bisogna andare un po' oltre i ringraziamenti, bisogna dare a queste persone anche delle prospettive che gli consentano di lavorare tutto l'anno o comunque nei mesi in cui è giusto farlo per prevenire gli incendi. Che l'assessore dica che la campagna antincendio è partita a giugno regolarmente e allora a giugno siamo già nel pieno del problema. C'è un problema di pianificazione importante, c'è un problema di programmazione che va avanti da decenni e su cui non si riesce veramente a invertire la rotta perché sulla prevenzione siamo veramente... C'è un problema di mezzi a disposizione delle sue? C'è un problema di mezzi, ci sono per esempio alcuni che hanno, per esempio il Dipartimento regionale di protezione civile, per esempio ha dei mezzi più all'avanguardia, più aggiornati rispetto a quello dei forestali che hanno magari vent'anni di vita alle spalle e quindi non sono neanche idonei e a questo ci aggiungiamo perché anche su questo sia per quanto riguarda Bosco Scoraggio per quanto riguarda Montagna Grande. Parliamo anche della viabilità forestale. Molto spesso quello che è difficile anche per i nostri mezzi di soccorso che già non sono sempre all'avanguardia è persino accedere in alcuni siti dei nostri boschi. Ripeto, ho fatto l'esempio di Bosco Scoraggio come quello di Montagna Grande ma le dico anche Monte Bonifato, c'è una difficoltà a volte persino di accesso quindi bisogna mettere chi ovviamente nell'ordinamento regionale è deputato a questo tipo di attività nelle condizioni di poter lavorare, di poter fare un lavoro di prevenzione e di gestione forestale che sia tutto l'anno e che non sia limitato ad alcuni mesi dell'anno perché poi c'è il grande problema del precariato perché lì veramente ci sarebbe bisogno di una grande riforma e sarebbe epocale del sistema forestale ma anche lì il governo latita cioè non abbiamo uno straccio di idea progettuale da parte del governo per capire che intendimento hanno abbiamo scottato tanti buoni propositi, siamo arrivati al paradosso di sentire il 18 ottobre dichiarare al Presidente della Regione lo stato di emergenza per gli incendi ed è una cosa che hanno fatto anche i suoi predecessori ma non era mai capitato che lo facessero ad ottobre quindi questo è stato veramente l'apoteosi dell'improvvisazione sulla questione degli incendi Quattro anni ancora però di governo Quattro anni? Io questo... Ora fate proprio in questi giorni dell'ultima domanda che farò ricorre l'insediamento, il primo anno dell'insediamento vostro del Presidente e anche dei deputati regionali ma quindi teoricamente se giochiamo ai numeri ci sono ancora altri quattro anni Teoricamente sono quattro anni al momento vedendo le fibrillazioni che ci sono all'interno della maggioranza e l'esempio della sanità a cui abbiamo fatto riferimento è un esempio Non so, magari troveranno dei nuovi equilibri dopo le nomine del Direttore della Sanità però insomma io non azzarderei previsioni sulla durata dei quattro anni Ah sì? Di altri quattro anni Sensazioni Schifani si stanca e se ne va? Magari, ripeto, magari troveranno nuovi equilibri all'interno del Parlamento però se fosse un governo così forte, così coraggiosamente sostenuto dalla propria maggioranza dopo un anno cominceremmo a vedere un briciolo di riforme che un governo forte può portare in Parlamento oggi a distanza di un anno stiamo ancora parlando di abbiamo anche il Parlamento stesso, quello è la cartina di tornasole il Parlamento è la cartina di tornasole di quello che un governo fa un Parlamento che si occupa materialmente di piccole cose salvo poi aspettare la manovra in cui ci si aspetterebbe veramente dopo un anno qualcosa di ampio respiro insomma staremo a vedere cosa ci aspetta al momento abbiamo una variazione di bilancio che esiteremo probabilmente entro la fine dell'anno e poi vedremo questa legge di stabilità proposta dal governo cosa ci proporrà e lì valuteremo anche la tenuta della maggioranza ok quindi siamo tutti in attesa chiudiamo appunto a breve non mi ricordo esattamente qual è il giorno credo il 13 novembre il 13 novembre infatti ricorre un anno dal vostro ingresso ingresso quindi con tanto giuramento proprio in Assemblea Regione Siciliana è un anno che è sembrato un anno o è sembrato più di un anno per la Ciminisi? è stato un anno molto intenso in realtà in cui io parlo naturalmente del mio lavoro ho cercato di creare le basi per tutta una serie di questioni che ovviamente avranno degli sviluppi nei prossimi anni per esempio quello dei ristori diciamo siamo riusciti a portarla a casa entro l'anno in qualche modo se pensiamo che l'alluvione del 2003 a Salina Grande ancora si attendono i ristori forse è un modesto successo che possiamo considerare però in tutti questi mesi di lavoro abbiamo cercato di mettere i tastelli giusti che ci servono per costruire un percorso anche di risultati nei prossimi 4 anni che verranno quindi il primo anno io lo considero un anno di costruzione come lo considero per il governo lo considero per i deputati ora iniziamo a mettere vediamo cosa riusciamo a portare a casa in tutto questo c'è però da fare riattecchire il Movimento 5 Stelle c'è anche un momento di grande fermento in questo periodo perché è in fase la riorganizzazione del Movimento 5 Stelle è già partito il gruppo territoriale di Marsala partirà la prossima settimana il gruppo territoriale di Castelvetrano anche il gruppo di Trapani è stato formalmente costituito ma non è ancora stato nominato il referente locale e quindi insomma c'è anche tanto movimento all'interno del movimento che sta cercando di darsi una struttura è un esperimento stiamo provando a radicarci nel territorio anche attraverso quegli strumenti che consentano la più ampia partecipazione da parte dei cittadini perché i gruppi territoriali nascono per dare voce ai cittadini che vogliono dedicarsi anche alla politica attiva quindi sono altro rispetto a una struttura di partito vera e propria uno spazio per gli iscritti per gli attivisti che vogliono seguire la politica della loro città e dare un contributo ma chissà se sarà donna la referente locale del 5 Stelle magari poi si mettono a parlare mi pare difficile con la nuova segretaria del PD il PD io non mi occupo di quello che succede negli altri partiti auguro un buon lavoro ad Astrid Di Pasquale per questo nuovo ruolo che conoscendo la sua passione politica immagino svolgerà al meglio delle sue capacità io mi occupo di quello che succede nel mio partito e sono sempre felice quando le donne riescono a raggiungere le posizioni che meritano se lo meritano grazie onorevole Ciminisi ci rivediamo prima della fine dell'anno per un altro approfondimento manca un mese e mezzo prima della pausa nostra televisiva avremo modo di chiacchiere volentieri certamente c'è spazio per il telegiornale per la trasmissione questa mezz'oretta mi è piaciuta e spero di averne qualcun'altra prima della fine dell'anno grazie mille è stata con noi la deputata regionale del Movimento 5 Stelle eletta nel collegio della provincia di Trapani l'onorevole Cristina Ciminisi grazie grazie a voi e noi proseguiamo con la seconda parte di Respubblica Sicilia Chiama Europa ed eccoci qua con la seconda parte beh sembra fatta apposta abbiamo salutato la deputata regionale di Misiliscemi perché lì è residente certamente l'onorevole Cristina Ciminisi e su Misiliscemi ci focalizziamo con due capigruppo uno della maggioranza in particolare Dina Errante capogruppo di Progetto Comune ben ritrovata grazie e accanto c'è Rocco Greco che è il capogruppo di Misiliscemi insieme buonasera a tutti è importante della minoranza ben ritrovato anche a Rocco Greco intanto com'è stato? beh vedo che freschetto si fa sentire Giubbino ci voleva però ci voleva finalmente mi sento di dire che insomma abbiamo patito un po' il caldo a parte le condizioni meteo tutto bene sì grazie tutto bene è questo qua non ci possiamo lamentare è questo mi fa piacere beh avete approvato il bilancio a Misiliscemi partiamo subito da lì era facile in un certo senso questo primo consuntivo insomma era anche abbastanza semplice da portare a casa voglio ascoltare però prima l'opposizione che ne pensano grazie direttore grazie intanto per la possibilità che ci dà di parlare direttamente con i cittadini beh come ha detto diciamo che in questa approvazione del bilancio lo reputiamo anche quasi una presa d'atto certo l'altra sera abbiamo ascoltato l'assessore qui in televisione per cui lo contraddistingue la sua grande onestà intellettuale l'assessore Barbera che ha spiegato che questo diciamo primo bilancio era parte del bilancio del comune di Trapani quindi era dentro i numeri chiamiamo così del comune di Trapani e fondamentalmente non si è detto comunque ai cittadini che i numeri erano tutti a zero quindi per noi è stata davvero una presa d'atto perché tutti i numeri delle entrate e uscite erano tutti equivalenti a zero perciò parlare di un bilancio dove si può adesso organizzare e programmare il tanto ecco starei un attimino un po' più attento ecco non sono così pronto a festeggiare come ho sentito anzi tanti colleghi della maggioranza festeggiare per il primo bilancio sì è realmente un primo bilancio per il comune di Misircemi ma ripeto ancora non definisce realmente né la forza né la capacità del comune perché ripeto i numeri erano tutti pari a zero quindi continuiamo a dire che siamo ancora parte del comune di Trapani tra l'altro una cosa che a quel giorno mi sono permesso pure di dire in consiglio comunale sono stato quasi preso di mira dicendo che ancora il nostro comune madre è il comune di Trapani e senza diciamo la forza del comune di Trapani molti servizi verrebbero a mancare a Misiriscemi sì vediamo invece la posizione di Erlanto sì io non posso che essere in parte d'accordo con il collega Greco perché è vero che adesso ancora non si può cantare vittoria ma l'approvazione del bilancio del rendiconto 2021 che effettivamente il numero è uguale a zero perché tutto è stato portato al 2022 perché ancora non c'era un'amministrazione a Misiriscemi nel 2021 è un importante primo passo che ci porterà finalmente ad un'autonomia economico-finanziaria per poter così attuare tutto quello diciamo che è necessario e quindi attuare l'attuazione di servizi nel territorio di Misiriscemi per esempio che non ci sono di questo provvisto quindi c'è da festeggiare perché è stata una cosa molto importante molto importante che dovrà essere ancora avrà il suo seguito naturalmente dovrà seguire l'iter dell'approvazione del bilancio 2022 per poi arrivare a previsionale e poter così attrezzare e veramente avviare concretamente i servizi che mancano a Misiriscemi per la comunità per la comunità e per il tesoro lo stesso in effetti siamo contenti si è ancora in fase di rodaggio è un continuo battesimo uno dietro l'altro questo è stato il primo battesimo della manovra finanziaria diciamo così per cui tutto è in divenire serve però per appunto entrare nei meccanismi greco che ha un po' più di esperienza assolutamente sì direttore volevo aggiungere che un primo previsionale che aveva fatto allora il commissario Burgio 21-23 c'erano i primi dati ecco ufficiali della forza di Misiriscemi si parlava di circa 5 milioni per il 2021 come entrata e quindi come rendiconto del 2021 di Misiriscemi andavano poi a 7 milioni circa nel 2022-23 anche perché ricordo che il 2021 è diciamo l'anno in cui è realmente stato istituito quindi i primi mesi ancora non c'erano ecco questi 5 comunque 7 milioni dimostrano che la forza del comune ci sarà senza dubbio c'è però realmente non è come quello che prevedeva soprattutto il gruppo promotore della nascita di Misiriscemi quando si sbandierava in giro per le strade che Misiriscemi avrebbe avuto entrate di circa 10-12 milioni c'erano slide c'erano volantini dappertutto questi numeri ancora non ci sono ma ripeto può darsi che realmente ancora non abbiamo i numeri reali perché la verità è anche questa ma questo primo previsionale che allora è stato approvato dallo stesso commissario un attimino ha impensierito soprattutto gli addetti ai lavori vedo questa grande tranquillità dalla parte della maggioranza e dell'amministrazione attuale mi fa anche piacere ma sento anche la paura fino all'ultimo pochi giorni fa è uscita la notizia ormai ufficiale ne avete parlato anche voi in televisione altra volta ne ho parlato in consiglio comunale di questi circa 10 milioni che il comune di Trapani ha chiesto con una nota con una diffida al comune di Misiriscemi e a me un po' fanno paura certo ripeto il nostro sindaco aveva sbandierato e continua a dire che Trapani deve 50 milioni circa a Misiriscemi quindi in parte glielo ho detto pure in consiglio sto tranquillo perché dico alla fine abbiamo 40 quindi siamo sereni però vedere ecco che ci sono 800 mila euro per il 2021 circa 4 milioni e qualcosa per il 2022 e quasi in percentuale fino al 31 ottobre altri 3 milioni e 8 per il 2023 a me lasciano un attimino di perplessità nonostante ripeto anche l'assessore Barbera ha spiegato bene che ci sono pure la parte attiva che deve ristornare il comune di Trapani queste somme vanno tolte poi appunto i crediti sono numeri a me personalmente un po' di certamente esordire con circa 10 milioni di euro su Groppone giustamente come funziona non sono numeri assolutamente diciamo che abituati a essere trattati nel privato ma in un ente pubblico ci stanno questi 10 milioni diciamo sono spalmati appunto per i tre anni 21, 22, 23 io non sono un tecnico non posso entrare nei particolari ma so di certo che già ben due volte si sono incontrati i nostri tecnici quelli che si discemi con quelli del comune di Trapani proprio per rendicontare e fare le giuste valutazioni in quanto come ha ben anticipato lei direttore ci sono le partite a credito e a debito quindi questi vanno assolutamente diciamo precisati e sinceramente dalle voci che ci arrivano ci sentiamo abbastanza tranquilli per poter affrontare quello che sarà anche il rendiconto 2022 previsionale 2023 quindi dico al collega greco di avere fiducia e di stare un po' più sereno spero infatti di sbagliare siamo arrivati ora a giorni a fine mese festeggiamo il primo anno dall'insediamento quindi dalla nascita ufficiale proprio del primo sindaco della prima amministrazione del primo consiglio comunale di Misescemi come vi sentite davanti a questo primo compleanno sinceramente dico siamo contenti di essere qua perché abbiamo preso un impegno con i cittadini perché io parlo del gruppo di maggioranza diciamo siamo delle persone per la maggior parte che ci siamo presi a carico proprio di avviare un futuro per Misescemi la maggior parte di noi non aveva mai fatto politica attiva prima di adesso la intendiamo come un servizio per la collettività quindi siamo contenti per questo perché ci siamo ci stiamo provando e si sono fatti si sono ottenuti risultati insperati considerando che questa amministrazione ha ricevuto un comune che non era una macchina amministrativa che non era ancora pronta per essere amministrata quindi in effetti la nostra amministrazione sta mettendo su questa macchina amministrativa prima ancora di essere amministrata ricordiamoci per come è stato ribadito che il comune ancora non era dotato nemmeno di una partita IVA quindi veramente diciamo c'è da dare merito a chi si è adoperato finora e continua a farlo per portare avanti questo progetto comune appunto che diciamo è solo all'inizio quindi contenti da un lato è un po' diciamo ci conteniamo un po' perché non si è potuto effettivamente fare più di tanto ma le prospettive sono abbastanza incoraggianti in parte siamo d'accordo sul fatto che il primo anno si sapeva che sarebbe stato un anno difficile così lo è stato lo è stato per Tallarita per il suo gruppo lo sarebbe stato senza personare senza strumenti senza la sede però questo rafforza quello che noi dicevamo e sostenevamo ancora prima di arrivare alla determinazione quindi alla fusibilizzazione del comune quando scrivevamo quando chiedevamo alla regione di aspettare di pazienzare di fare in modo che comunque il comune avesse una propria capacità amministrativa prima di lasciarlo da solo allora quando chiunque si permetteva di dire una cosa del genere come l'ho fatto io sulla stampa veniva attaccato in maniera anche abissale da parte della maggioranza o comunque di coloro che erano i primi sostenitori del comune ecco dire abbiamo pazienza stiamo calmi aspettiamo un po' abbiamo l'esperienza di Petrosino che dal voto al referendum sono passati circa otto anni prima che si è realmente staccato da Marsala qui è sembrato tutto ecco molto accelerato sappiamo che ci sono state anche delle pressioni da parte dell'amministrazione con allora i deputati regionali di allora e lo sappiamo tutti ormai evidente per arrivare prima possibile a queste votazioni le votazioni ci sono state le pressioni ci sono state ma adesso ci ritroviamo un pochettino da soli in balia di un sistema che è anche abbastanza diciamo farraginoso quindi dire adesso non abbiamo la partita io l'avevamo detto lo sapevamo non abbiamo sapevamo già ripeto di queste difficoltà io avrei fatto pressione ai deputati regionali e mi auguro che ancora ora viene fatta per ottenere qualcosa in più da parte della mamma regione la cui poi si è presa per esempio che cosa la responsabilità qualche soldino è arrivato per le feste diciamo così per l'estate direttore mi perdoni qualche soldino circa 80.000 euro per organizzare le feste è un bel contributo è qualcosa che l'amministrazione è riuscita a spalmare nel territorio ma non è quello che attualmente il comune ha bisogno realmente anche di una vera struttura sì parliamo che il centro cara potrebbe essere ma da soli non è facile portarla davvero ad avere tutti quei requisiti e tutte quelle efficienze per dare servizio agli utenti il comune ha bisogno veramente di un sistema che manca quindi secondo me oggi il sindaco dovrebbe non stare giornate entere al terzo piano di Palazzo Dalì ma forse stare quasi tutti i giorni a Palermo a bussare e chiedere aiuto concreto mi pare una non so se è legittima ma mi pare una buona osservazione se corrispondesse a verità io non abito a Palazzo Dalì a terzo piano quindi non controllo chi ci sta e chi non ci sta tutti i giorni e quante ore ci passano evidentemente il collega greco è molto più informato di me però se noi consideriamo che questa amministrazione ha dovuto e ha ottenuto intanto abbiamo adesso quindi i nostri revisori che ci hanno diciamo portato ad essere più cederi nelle procedure abbiamo del personale a scavalco abbiamo ottenuto cosa che in passato non era stato possibile mai non era mai successo abbiamo ottenuto diciamo stiamo aprendo l'asilo nido abbiamo messo in sicurezza i ragazzi con lo scuolabus abbiamo sta partendo la mensa scolastica considerato abbiamo del personale a scavalco abbiamo una convenzione con i taxi cioè abbiamo aderito al lancio abbiamo fatto dei grossi passi avanti e delle grandi conquiste che non si ottengono sicuramente stando seduti a terzo piano di palazzo Dalì come lei dice ma sicuramente questo è il risultato di un lavoro di squadra capeggiati ovviamente dal nostro sindaco e che non lo so mi sto prendendo ora di tutte queste pressioni fatte io non lo so non lo posso dire se così è successo ma se avessimo avuto se questa maggioranza o chi sosteneva questo progetto avesse avuto tutta questa influenza a quest'ora noi saremo tranquilli e beati avremmo già tutto quello che ci serve per amministrare certamente da quello che mi risulta insomma il primo vero scontro con la realtà al di là delle questioni burocratiche personale e quant'altro e la rete idrica con la brodo io vi devo confessare l'ho già detto pure al sindaco più volte quasi quotidianamente noi qua riceviamo telefonate di disagi di cittadini di misi di scemi un po' in tutte le contrade soprattutto Marausa Ridievo guardato c'è proprio fiumi di acqua che sgorgano da sottoterra e lì il sindaco alza le mani mi ha detto non ci posso fare nulla perché non dipende nemmeno da noi consigliere greco non è che non dipende proprio da noi in pratica sappiamo che quando l'acqua viene a mancare nelle contrade di misi di scemi bisogna essere sinceri non è per colpa della perdita che c'è nelle strade che ce ne sono davvero tante parliamo di centinaia ne abbiamo presentato pure in interrogazione allora per mettere in chiaro e fare luce sulla questione il problema è naturalmente a monte ed è vero che attualmente misi di scemi ancora non gestisce in pieno non solo la rete idrica ma i pozzi di Bresciana dove naturalmente si attinge l'acqua per misi di scemi ma la verità è che molte di queste rotture cui lei fa riferimento direttore sono davvero rappresentano a volte anche un pericolo per l'incolumità pubblica e questo pericolo il sindaco che in questo anno si è anche nascosto spesso sul fatto che non avevamo ancora le strade ancora il patrimonio non era stato ancora diviso e quindi ancora siamo in realtà poteva intervenire per ripeto per garantire anche la sicurezza pubblica quindi mi riferisco al fatto che se una rottura ha creato una buca enorme e crea davvero disagio per l'intera comunità il sindaco aveva tutte le capacità e tutti i requisiti per poter intervenire naturalmente servendosi sempre anche dei tecnici del comune di Trapani come abbiamo sempre detto ma siccome ci sono anche problemi ripeto economici ci sono altre difficoltà allora il sindaco non fa che allargare le braccia ma dire che noi abbiamo solo adesso avuto le strade solo adesso stiamo ricevendo retefoniare è una grossa menzogna ma lo ribadite anche voi caro direttore nell'articolo che avete pubblicato quando avete giustamente sancito e spiegato ai cittadini che c'era stata questa cessione da parte del comune di Trapani al comune di Misiscemi l'ultimo trafiletto spiega che comunque sempre la responsabilità giuridica era in capo al sindaco quindi non è che il sindaco ad oggi se il semaforo di Guarrato ecco per fare un altro esempio mi permette la collega Errante anche perché sta lì a pochi metri se il semaforo di Guarrato è da più di un anno un anno e mezzo che non funziona non è che perché il sindaco non aveva ancora avuto la strada o il la parte appunto della quota di Energir Green Light per la gestione dell'illuminazione pubblica non poteva intervenire poteva e doveva intervenire ha scelto di aspettare il finanziamento per l'abbattimento dei costi e quindi il ribassamento energetico che ha portato avanti allora l'assessore Safina oggi onorevole regionale che ha vinto allora abbiamo conquistato un finanziamento sia per Trapani naturalmente per il territorio di Misiscemi che faceva parte di Trapani e quindi il sindaco ha deciso dalla vita di aspettare questo finanziamento perché verranno sostituiti tutti i corpi illuminanti e anche i semafori però voglio dire da più di un anno che quel semaforo crea un pericolo enorme e si sarebbe vediamo se ho capito quindi temporeggiano troppo questa amministrazione? secondo me è anche costretta a temporeggiare per le difficoltà che la collegarante ha spiegato sia di carattere economico sia di carattere appunto gestionale però potevano e dovevano secondo me intervenire su determinati un po' più immediati un po' più immediati su certi di nerrando che fate siete sul semaforo di Guarrato e chiudo ma come il semaforo sarà grande altre e chiedo scusa alla collega vedete essere amministrare è davvero difficile mentre prima quando Trapani e su questo semaforo spesso aveva dei problemi e passavano mesi poi veniva sostituito poi si ripresentava il problema e allora veniva di nuovo noi consiglieri a pressare sia con Energy Greenlight sia con i tecnici per intervenire e poi veniva sostituito e poi di nuovo cadeva nel bar adesso è da più di un anno e mezzo che nessuno scrive su Facebook nessuno si lamenta nessuno dice ma non ci sono consiglieri adesso è tutto non disturbate il conducente è tutto normale può stare così tanto che fate mi lasciate zitti adesso io a questo punto sarei anche zitta visto l'esperienza politica del collega però lo devo in parte diciamo dicevo totalmente smentire intanto perché ancora il comune di Misiliscemi non ha acquisito quindi non ha preso piena proprietà di tutte quelle che sono le strade l'illuminazione pubblica la condotta idrica e tutto in quanto abbiamo un verbale di consegna ma non c'è ancora un atto di consegna e siamo sempre là quindi sono nostre ma in effetti ancora non lo sono per quanto riguarda ma è vero mi diceva qualcuno che manco le chiavi mi hanno dato ancora per lo diceva il sindaco lo diceva l'assessore e quindi vedo che seguite le mie trasmissioni quindi non avete manco le leve per cambiare fra l'altro fra l'altro c'è però con l'idea dovresti farti sentire tu ma una cosa grave le chiavi addirittura per dove ci sono collocate le pompe di sollevamento è una cosa davvero grave chiedo scusa prego dico quindi di fatto ancora non è completamente del comune di Misiliscemi chiedo scusa non è normale che io non so come funziona però non è normale che non vi vengano forniti i mezzi lì bisognerebbe parlo da esterno dico bisognerebbe andare a dire oh vabbè mi creda che è stato fatto tante volte perché l'amministrazione di Misiliscemi ha sin dall'inizio fatto pressing al comune di Trapani al comune madre come ama definirlo il mio collega fatto pressing affinché venissero proprio definite e quindi ripartite la ripartizione patrimoniale in modo che ognuno poteva diciamo ogni comune poteva provvedere ai propri fabbisogni e questo è stato fatto tanto che è stato istituito dalla regione il dottore Cocco un commissario che si occuperà che si sta occupando proprio della ripartizione patrimoniale affinché avvenga nel modo giusto il prima possibile ovviamente però ancora diciamo i risultati veri e propri qualche cosa si è visto ma ancora non del tutto per quanto riguarda la rete idrica voglio precisare che questa rete idrica è veramente combinata male è un colabrodo è fatiscente e sicuramente convenite con me nel dire che non è una situazione che è nata un anno fa un anno e mezzo fa due anni fa perché siamo arrivati a questo punto vuol dire che il comune madre si è comportato da madrigna più che madre cioè ci è abbandonato ed è sotto gli occhi di tutti quindi chi aveva diciamo una certa influenza nell'amministrazione del comune madre poteva fare secondo me visto che tutto è così facile e così semplice poteva fare pressi affinché non si arrivasse proprio a questa situazione che si è stata contessa parlando noi siamo d'accordo che infatti non è facile amministrare l'abbiamo sempre detto sono delle difficoltà non indifferenti soprattutto parlando di una rete idrica che non solo è colabrodo ma è così vasta e dispersiva nel territorio di Misiriscemi quindi per fornire diversi utenti c'è davvero tanta roba prima di arrivare a tale quindi si deve aspettare e si deve stare veramente attenti a dei finanziamenti perché non è una cosa così semplice a modernare la rete idrica ma mi fa davvero specie fa davvero rabbia pensare che un sindaco si possa nascondere sul fatto di dire noi ancora non abbiamo le chiavi come dice lei bene direttore ma capiamo che per quanto riguarda le pompe di sollevamento c'è un qualcosa davvero di paradossale di grave di attenzionare bene perché domani può succedere di nuovo una bombacqua mi auguro che non succeda come quello che stiamo vedendo in Toscana va tutto il nostro augurio di una pronta ripresa per tutta la regione e noi non sappiamo nemmeno se quelle pompe funzionano o meno addirittura c'è la voce che dicono che sono state pure rubate ma non sappiamo nemmeno questo quindi il sindaco ci ha raccontato l'altra volta che non ci sono il collega Errante forse ne saprà più di me e quindi noi non è un allarmismo nei confronti dei cittadini ma un sindaco deve prendersi la briga di prendere quelle chiavi di andare lì di farsi accompagnare e prendere il comandante dei vigili urbani farsi accompagnare e aprire quella pompa di sollevamento per capire quello che c'è quello che non c'è cosa ci vuole ci sono queste pompe di sollevamento io ho sentito le parole del sindaco unitamente al collega greco e non ha detto che non ci sono le pompe di sollevamento è stato effettuato è stato abbiamo subito un furto per quanto riguarda i cavi quindi la rete diciamo elettrica non le pompe ci sono è questo che a me da quello che io ho potuto capire che ha detto il sindaco inoltre le dico una cosa che è stato fatto un tavolo tecnico richiesto proprio dal comune dall'amministrazione dei misili scemi dove hanno partecipato il WWF l'autorità di Bacino i comuni di Trapani forse Trapani misili scemi Paceco e quant'altro dove diciamo per definire proprio per diciamo definire e capire meglio la situazione di tutti i bacini di tutti i canali e le responsabilità su chi ricadono perché ci sono delle parti che ricadono alla provincia al comune di Paceco al comune di Misilice non si capisce bene come ebbene da quello che abbiamo lunedì fra l'altro ci sarà un'assemblea cittadina dove il sindaco spiegherà a tutta la cittadinanza proprio questa situazione i risultati che si sono ottenuti a seguito di questo tavolo tecnico e diciamo i soldi che sono stati stanziati dalla regione che sono buona parte di quelli che è stanziato per tutta la regione Sicilia buona parte ricadrà sul comune di Misilice proprio per prevenire situazioni sgradevoli naturalmente sarà spiegato che non è così facile e bello per come può sembrare è bello sicuramente ma facile no in quanto i tempi della politica non sono quelli diciamo che si hanno del privato inoltre mi tengo a precisare che si sta provvedendo ad istituire un capitolo nel bilancio proprio per intervenire sulle emergenze capitolo che finora non c'era non era compreso nel diciamo non c'era non era previsto e quindi proprio per ovviare a certe situazioni sgradevole che purtroppo a ragione i nostri cittadini lamentano si sta provvedendo a questo capitolo specifico assoluto per l'emergenza chiudiamo abbiamo pochi minuti però ci ritorneremo su questo ultimo argomento con voi ma anche con gli altri perché mi sta molto a cuore insomma sono un romantico e mi piace quando riaffiorano reperti dell'antichità beh tra i progetti del vostro progetto comune c'è il parco di Marausa dei Mesi di Scemi le Contrate Unite non avevate però pensato che c'era già un avevate messo in conto ma non in maniera così dirompente che c'era già un tesoro appartenente a Mesi di Scemi che so che è il mare di Marausa dove adesso hanno recuperato pure un secondo reditto e lì sinceramente sia opposizione che maggioranza io non ho ben capito se siete consapevoli di che di che tesoro avete fra le mani mi sembra quasi come se fosse qualcosa che addirittura a volte dà fastidio non parlo certamente di voi due però assolutamente no invece siamo sempre stati ben coscienti di quello che rappresenta il litorale di Misi di Scemi che è tutta la facciata sul mare quindi il molo di Salina Grande Marausa certo il ritrovamento di questo reperto lo rende ancora più prezioso però tanta attenzione è stata data e verrà data a quelli che sono diciamo le coste di Misi di Scemi il fatto del relitto della nave romana è vero è stata diciamo una bella sorpresa naturalmente ci stiamo muovendo anche affinché possa dopo effettuate le fasi di recupero quindi che saranno lunghe non saranno cose che a mesi si saranno disbrigate si è già pensato si è già individuato un sito dove poterla collocare e insieme a tutte le altre situazioni che dobbiamo disbrigare e questa verrà portata avanti con grande interesse e con grande impegno affinché sia giusto perché è cosa giusta che nel ritrovamento diciamo è vicino alla nostra costa che venga messo lì anche perché non si vuole solo fare un museo solo diciamo una visita per chi è appassionato di reperti archeologici ma il sindaco già c'è appunto sarà molto più anche noi già siamo coscienti dell'importanza non solo del ritrovamento che è stata opera anche del nostro amico Francesco Brascia lo ricordo lo saluto che tra c'era candidato nella lista di scemi insieme colui che appunto ha ritrovato la name romana e da allora abbiamo iniziato già ad interloquire con i riferimenti regionali in primis l'avvocato Safina per cercare di prestare sulla regione e trovare anche dei fondi necessari in modo da realizzare ecco veramente un sito che possa naturalmente diventare attrazione turistica ma oltre questo il litorale come dice lei bene direttore di Marausa quest'anno non è stato valorizzato per come ha sempre sbandierato l'amministrazione Tallarita anzi secondo me l'abbiamo detto in consiglio abbiamo presentato delle interrogazioni è stato letteralmente deturpato perché una pulizia fatta con dei mezzi cingolati che hanno abbassato di circa 30 cm la spiaggia e non ultimo poi è arrivata una nota da parte della Capitaneria perché è mancata realmente la spiaggia a Marausa non si fanno così non era questo modo di pulire la spiaggia per cercare di risparmiare circa qualche migliaio di euro nei confronti della ditta che poteva farlo la Formula Ambiente che si era messa a disposizione ma non ha avuto mai una richiesta ufficiale da parte dell'amministrazione quindi il sindaco ha sbandierato che Formula Ambiente chiedevano più soldi per quello che realmente ce n'era di bisogno ma realmente non ci sono né richieste di preventivi né note ufficiali c'è stato un lavoro eseguito non male malissimo che ha rovinato ancora di più la spiaggia di Marausa e l'abbiamo visto sotto gli occhi mi devo dare pochi secondi purtroppo non per scortesia ma perché abbiamo finito il tempo di distruzione assolutamente io devo dire solamente che è stato diciamo scelta aggiudicata il bando quindi diciamo l'assignazione dei lavori ad una ditta che aveva tutte le caratteristiche sicuramente sono stati fatti degli errori perché ci siamo resi conto che non ha lavorato diciamo o ha lavorato in una maniera che è magari non proprio perfetta ma non è stato fatto assolutamente per nessun risparmio ma perché il patrimonio va preservato a prescindere quindi sicuramente ne faremo ne faremo tesoro di questa di questa esperienza pensiamo soltanto che manca sempre il personale ci manca sempre il personale ha detto anche a controllare e a fare in modo che tutto venisse fatto in una maniera va bene si va avanti le persone intelligenti in genere quindi anche gli amministratori e i controllori degli amministratori quando sono intelligenti non possono che migliorare guardando gli errori fatti per non farli più vi ringrazio intanto per questa partecipazione non sarà né la prima né l'ultima abbiamo un po' di tempo salute permettendo da passare assieme e intanto festeggiamo bene il primo anno e lì tutti insieme dovete festeggiare opposizione e maggioranza ma ci mancherebbe una bella torta siamo invitati una fetta me la mangio su quello non si discutono con piacere sono stati con noi Rocco Greco capogruppo della lista amici di insieme insieme consigliere di opposizione di minoranza diciamo così e Dina Errante è capogruppo della lista progetto comune consigliere della maggioranza grazie e a presto questa è stata Respubblica Sicilia e Chiama Europa